Oggi la Coppa Scoglietto 50, giocata con formula Stebleford, 18 buche, handicap, tre categorie. I premi sono gentilmente offerti dal Residenza Resort Scoglietto 50 di Puntala, che ringraziamo. Bene, bravi. Al tavolo della premiazione l'amministratore delegato del Scoglietto 50, dottor Roberto Lallo. Bene. Il presidente del Golf Club di Puntala, dottor Fernando Damiani. Bene, a me fa molto piacere rinnovare tutti gli anni questa gara, con una struttura che fa parte proprio della Puntala, che vive 365 giorni all'anno, perché se ne parlava ora il Residenza è aperto tutto l'anno. Quindi la collaborazione che ormai esiste tra noi e loro dura nel tempo e quindi viene rinnovata automaticamente. Ci auguriamo che molta più gente scopra le bellezze di Puntala anche fuori da quelle che sono la stagione canonica dell'estate. Perché credetemi che nell'autunno, inverno e primavera, Puntala è altrimenti bella quanto l'avete stato. Magari si vanno a scoprire cose diverse, ma sono da vedere e da visitare con tanto piacere. Quindi io ringrazio ancora l'amministratore dell'Escoglietto e l'appuntamento chiaramente al prossimo anno. Mi fa piacere se anche lei... Io niente, volevo salutare tutti i convenuti. L'impegno della nostra società è quello di mantenere un presidio di residenza tutto l'anno. Questa è stata una scelta che secondo noi è molto importante per la realtà di Puntala, perché è una località che non può vivere due mesi l'anno, ma deve vivere tutto l'anno perché ha le risorse anche del territorio circostante che lo permettono. Quindi la sfida è stata quella di, ormai da diversi anni, di essere sempre aperti. I risultati vengono. La collaborazione con il Golf Club Puntala è una cosa spontanea e con il nuovo presidente addirittura la cercheremo di rinvigorire e creare ulteriori offerte per gli appassionati del Golf. Quindi il nostro residence è a disposizione. Grazie a tutti. Bene. Procediamo con la premiazione iniziando con il primo Juniores vinto da Philippe Müller con 30 punti. Bravo Philippe. Bravo Philippe. Bravo Philippe, molto bene. Vai. Primo Signores con 35 punti, Lionello Giubilei. Bravo, molto bene. Bene, ok. Primo Ladies, Camilla Bigagli con 31 punti. Brava Camilla. Ormai Camilla è diventata una B2E alle premiazioni. Il campione emergente del nostro circolo. Brava. Brava Camilla. Aspetta, aspetta Camilla. Vai. Nella terza categoria con handicap di gioco da 25 a 36. Secondo netto, Sibir Müller con 36 punti. Brava. Grazie. Bene. Il primo netto di terza categoria con 40 punti, Mark Müller. Bravo. Procediamo con la seconda categoria Handicap di gioco Da 17 a 24 Secondo netto con 35 punti Piero Mannelli Bravo Piero E primo netto di seconda categoria Con 40 punti Piero Canova Bravo Molto bene Perfetto Ok Passiamo alla prima categoria Con Handicap di gioco Fino a 16 Secondo netto con 34 punti Ferdinando Filippone Bravo Eccolo qua Bravo Perfetto Grazie Primo netto di prima categoria 37 punti Gabriele Massaia Bravo Gabriele Bravo Gabriele Bravo 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 La bella foto Bravo Grazie.